Sì, quest'anno partiamo e basta con le feste a casa di sconosciuti dove poi incontri i miei nemici. Basta, quest'anno si parte. Andremo a Londra, anzi no, ad Amsterdam, anzi no, a New York. Affittiamo uno chalet sull'Etna? E quanto costa? Quando? No, no, ma poi io non conosco nessuno, non mi va. No, no, i biglietti per Amsterdam costavano troppo. No, no, guarda, quest'anno sto a casa perché ogni anno la stessa storia, non sappiamo dove andare, poi non siamo tutti d'accordo. Guarda, sto a casa che è meglio. Ma scusami, a casa di chi è questa festa? Ah, è una festa a sbarco, ok? Ma allora andiamo lì. Cioè, è deciso, sicuro, andiamo lì e basta. Ma come non andiamo più alla festa? Ah, Chetty non vuole andarci. Eh, quindi? No, no, è lontano là. Ma poi c'è freddo, meglio che andiamo da Matteo, che dice che poi balliamo e possiamo portarci anche Brigida. Oh, è va bene, ma non mi chiamate più, che ho da fare, eh? Ciao, Ania. Ti comunico che io non intendo passare il Capodanno con Chetty. Quindi andremo a casa degli amici di Giuliana. Abbiamo deciso. Ehi, Giuliana, noi siamo arrivati, tu dove sei? Eh, ciao, Ania, scusami, alla fine io sono partita per Amsterdam. Mi devi scusare tantissimo, è che io non so complica cosa fare. Mi sono confusa, non ho fatto un biglietto per Amsterdam. Però voi divertitevi lo stesso e ciao, ciao. Ciao.